Nessuna novità per le situazioni riguardanti il coronavirus nel Cilento e Vallo di Diano. Resta tutto stabile, segnali positivi che continuano da più di un mese ormai, sinonimo di ripresa quasi totale, visto i pochi casi positivi al covid rimanenti. Nel Cilento restano 5 i casi, si attendono solo gli annunci di guarigione, mentre nel Valdianese il numero è simile, però con un massimo di 154 casi. Un tale recupero è davvero un gran risultato. Anche a livello regionale arrivano forti segnali, non solo per il dato minimo di contagiati registrati ieri pari a 7, ma anche per la ripresa delle attività, che sono ripartite quasi tutte, con determinazione e rispetto delle nuove regolamentazioni di sicurezza e prevenzione per il virus. Domani ripartiranno anche ristoranti e simili e la speranza che sia una ripresa forte, nonostante le linee guida di sicurezza previste, anche per questo settore che ha davvero pagato tanto per via del coronavirus. Grazie. 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 Grazie.